Siamo davanti alla questura di Torino dove alcuni delegati del SIAP, il Sindacato Italiano Autonomi Polizia, sta distribuendo dei volantini ai colleghi per spiegare e sostenere la battaglia per la tutela dei diritti e lo stipendio dei poliziotti. Ce ne parla il delegato Pietro Di Lorenzo. Oggi siamo davanti a tutte le questure, le prefetture e i poli della Polizia di Stato in tutta Italia prima di tutto per informare i colleghi di quanto sta accadendo e cioè che le risorse che sono state stanziate per ora sulla legge di bilancio sono assolutamente insufficienti a garantire un rinnovo contrattuale degno di questo nome. Noi infatti in modo molto schematico abbiamo illustrato che ora come ora ci sarebbero aumenti che vanno dalle 10 alle 20 euro nette, quindi cifre che non bastano a compensare quelle che sono i disagi e le fatiche degli operatori di polizia. Noi auspichiamo che le parole e le speranze che sono state date durante la campagna elettorale che non si riducano soltanto a uno spot elettorale ma che seguano alle parole anche i fatti. Quindi sostanzialmente noi in questo momento chiediamo l'attenzione di tutti quanti affinché in sede di esame della legge finanziaria siano allocate ulteriori risorse per soddisfare quelli che sono i bisogni della Polizia di Stato.